Quello è il mio campo di addestramento. Giulia penso che sia un bravissimo allenatore perché comunque ci aiuta molto. Quando si deve arrabbiare si arrabbia, invece quando si deve scherzare scherza e lo fa anche molto volentieri. Però è un bravo allenatore, anche Polato, è un secondo allenatore, ma è molto bravo anche lui, anche come Giurda, se non c'è Giurda, lo sostituisce molto bene. Allora, ti dico la sincera verità, gli fai il video a lui? Sì. Allora, caro mio Maurello Bianchi, qual è la realtà delle cose? Lo sai benissimo che ti sto quasi per cazziare, lo sai. Fai ginnastica che non ne fai! Allora, caro, 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 caro. Tecnicamente, più che tecnicamente, insiste sulla mia forma fisica, diciamo, perché lui mi vede ancora troppo debole. E infatti vuole che migliora tanto da questo punto di vista. Tecnicamente abbiamo sempre cercato di lavorare sullo stare più sopra lo sci, soprattutto in avanti, perché poi quello che veniva fuori, se vogliamo, in gigante, era la sua difficoltà nello stare sopra lo sci, quando cominciava a prendere velocità, quando diventava fisicamente più impegnativa la cosa. Mauro, ascolta un po'. Quando iniziamo la curva, la gamba la voglio ancora più solida, ok? Più solida perché ti capita ogni tanto che è un po' corta e il ginocchio lo lasci ballare un po' perché non la carichi come va caricata. La tieni un po' molle e non la carichi abbastanza. Invece devi proprio fare forza sullo spigolo, sullo sci di taglio, sul piede, devi fare forza con la gamba lunga e solida. Non può essere un pelino molle, solida quando la prepari, perché poi va spinta. Ok? Ok? Grazie a tutti Ecco se vedrai questo video di questa discesa ti accorderai come in fondo al muro tra la seconda lunga e la terza lunga hai fatto due belle porte che hai portato via bene velocità e hai spinto bene Invece le altre ancora prepari la curva stai lì con quella gamba che è molle che traballa un po' un po' storto col busto invece di pensare a essere solido con la gamba andare a sentire lo sci in entrata solido con la gamba lunga Cioè sentire lo sci con la gamba lunga non perché allungo la gamba lo sci non lo devo sentire e lo abbandono a se stesso La correzione principale è che sono schicciato molto indietro che se mi portasse avanti sarebbe già noto usciare Musica 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 Grazie a tutti